Giacomo Immortale Giacomo Immortale, uno spettacolo promosso dal coro filarmonico Rossini di Pesaro, lo possiamo vedere al Teatro Rossini martedì 23 aprile all'Euro 21. Questo spettacolo per celebrare l'anniversario del centenario della morte del maestro sarà un connubio tra prosa e lirica dove le principali arie e i principali cori tratti dalle maggiori opere del maestro come Turandot, Tosca, Butterfly saranno inframmezzate dalla prosa in cui ci sarà anche la vita del maestro, quindi la parte umana del maestro, non solo quella artistica. Quindi aspettiamo tutto il pubblico per questo nuovo spettacolo sicuramente entusiasmante martedì 23 aprile al Teatro Rossini di Pesaro all'Euro 21.